persino se vai dalla panettiera luogo più comune, più quotidiano del mondo tu oggi trovi scritto che tra pochi giorni è la festa di Halloween ma noi ci siamo chiesti che cos'è questa roba siamo lì tutti teneri tutti pieni di tenerezza verso i nostri bambini che disegnano i mostri le streghe, i diavoli con le corna sai che bella tenerezza vedere un bambino che gli viene insegnato a disegnare i mostri con cinque teste, con i denti da vampiro col sangue, con i cappelli delle streghe bellissimo, la festa bellissima pedagogicamente è fantastica dopo stiamo attenti se guardano Gesù nella passione perché madre, quanto sangue non vorrei mai che mio figlio rimanesse scioccato dal sangue di Cristo togliamo il crocifisso perché crea turbamento psicologico al mio bambino però che disegna il diavolo questo va bene non crea nessun turbamento psicologico dopo li portiamo dagli psichiatri e dagli psicologi perché dopo un po' cominciamo a dire ma non dorme più si sveglia angosciato c'ha l'ansia è disturbato te va chissà come mai Gesù Cristo non ha mai turbato il sonno di nessuno il diavolo turba il sonno e la veglia di tutti ma noi ci mancherebbe che ci mettiamo a chiederci ma che cos'è sta roba? io da piccolino ho mai sentito sta cosa qui di Halloween e non vengo dal mesolitico cioè non sono cresciuto insieme ai dinosauri da piccolino che 40 anni fa non c'era questa roba qui io ho mai visto girare nessuno con le zucche in mano anzi se mi dicevano che era una zucca mi offendevo ho mai visto disegnare diavoli o mi hai visto le mie compagnie andando in giro vestite come le streghe e da dove viene questa roba qui? che cosa vuol dire? è una cosa innocente, tranquilla, serena, carina perché noi dobbiamo sempre scimiotare quello che fanno in America altrove quindi se da domani quelli mangiano con i piedi per aria anche noi dobbiamo mangiare con i piedi per aria perché dobbiamo fare le scimmie di tutti senza chiederci il senso quello che adesso io vi dico non è che dovete crederlo perché ve lo dico io andate stasera a casa su internet battete e trovate le stesse cose che vi dico io non sono frutto della mia sapienza sono frutto di un po' di informazione che proprio dobbiamo dircela per essere coscienti padre Gabriele Amort dice così Halloween è una trappola del demonio e dice fa schifo e mi fa schifo punto si tratta sto leggendo testualmente si tratta di una roba pagana anticristiana e anticattolica proveniente da terre nordiche ed esplosa negli USA è stata fatta per mettere in secondo piano infuscare la solennità di tutti i santi il suo scopo è quello di mettere in tralcio la santità è una ideazione del demonio che intende scompaginare i piani di Dio questa festa ha delle radici nel paganesimo e nel satanismo e continua a essere ancora oggi una pericolosa forma di idolatria demoniaca da dove viene nello specifico trae origine da un'antichissima celebrazione celtica diffusa nelle isole britanniche nel nord della Francia sentite che roba con cui i pagani adoravano una delle loro divinità chiamata Samhain signore della morte bellissimo che i nostri bambini festeggiano il signore della morte stupendo era considerata una delle feste più importanti e dava inizio al capodanno celtico la notte del 31 ottobre in onore del sanguinario Dio della morte Samhain veniva realizzato sopra un'altura un enorme falò utilizzando rami di quercia albero ritenuto sacro sul quale venivano bruciati i sacrifici costituiti da cibo animali e persino da esseri umani questa festa è considerata il capodanno magico voi sapete che una delle frasi tipiche di questa festa è dolcetto scherzetto carini che belli bambini puffosi dolcetto scherzetto e noi come i somari diciamo ma no dolcetto e stiamo a fare anche noi gigilioni perché adesso va di modo la tenerezza quindi tutti teneri un po' come i puffi ma siccome non bisogna essere ignoranti perché la tenerezza non è sintomo di ignoranza ma è ben altra cosa analizziamo cosa vuol dire questo scherzetto e dolcetto se è così innocente in inglese l'espressione sarebbe trick or treat c'è una somiglianza trick tradotto letteralmente andate a vedere il suo vocabolario significa stratagemma trucco e inganno qui con lo scherzetto non ci abbiamo niente neanche col dolcetto qui vuol dire ben altra roba che in realtà nell'uso che facevano loro era maledizione o sacrificio dopo capirete perché maledizione o sacrificio treat invece significa piacere gioia e godimento che nella bocca di un bambino non ci sta proprio piacere e godimento un bambino non sa neanche che cos'è non c'entra niente quindi qui un miscuglio tra maledizione e godimento una meraviglia qual era la logica che stava sotto? la logica era quella che attraverso trick e treat tu dicevi o tu mi dai del denaro e del cibo questo era quello che facevano i druidi nell'andare di casa in casa in quella notte chiedendo o denaro o cibo o sacrifici umani oppure trick ti do la maledizione non c'è nessuno scherzo qui sotto questa è una forma di maledizione se tu non mi dai quella cosa io ti maledico quindi fermiamoci un secondo e ragioniamo perché dopo abbiamo voglia di andare a riempire le liste degli esorcisti perché siamo disperati non sappiamo più da che parte girarci dopo cominciamo a dire sento i rumori cominciamo a dire sono disturbato sto male i dottori dicono che non c'ho niente a me non dormo più io c'ho l'ansio non sto bene che cos'è? che cos'è? che cos'è? io sono rimasto molto impressionato quando a un corso di esercizi abbi accanto a tavola un esorcista famoso e mi ricordo che ci disse tante cose era un corso di esercizi per noi sacerdoti e io ascoltavo a un certo punto mi è venuta fuori questa frase gli ho detto ma padre ma io queste cose qui non le ho mai sapute mai sentite dico ma succedono anche a uno che non le sa e lui mi ha guardato e mi ha detto caro padre Giorgio Maria se io adesso ti metto qui una bottiglia di vino avvelenato e tu non lo sai e tu lo bevi poiché non lo sai questo vino non ti fa niente di male? basta io non ho parlato più ho detto caro Giorgio svegliati invece di perdere il tempo a parlare a guardare le bagianate la televisione o a parlare di chiacchiere inutili informati sulle cose importanti della vita vai veramente a vedere il senso delle cose noi ci rendiamo conto che questa festa viene celebrata negli asili negli asili negli asili si preparano queste robe qui andate a vedere su internet qual è il significato della zucca vuota dove si aggancia questa leggenda della zucca vuota è un incontro tra un alcolici noi non siamo pagani noi siamo battezzati in Cristo noi non siamo barbari figli di Attila noi abbiamo una cultura abbiamo una tradizione cristiana e dove l'abbiamo messa? dove l'abbiamo sepolta? in nome di che cosa? delle streghe dei diavoli no ai nostri ragazzi diamo contenuti ah ma noi andiamo a fare una festa non si fa festa col diavolo non si scherza col fuoco non si scherza su queste cose impariamo come dice Gesù a distinguere il bene dal male questo vuol dire essere derisi essere messi da parte essere diversi e sia ma almeno io di notte quando vado a letto dormo così bene ma così satollo ma sto così bene perché l'anima è in pace non devo stargli a pensare agli spiriti ai demoni alle schifezze varie alle streghe tutte le cose inquietanti no perché penso a Gesù penso agli angeli penso ai santi faccio un bel segno di croce e dico Signore nelle Tue mani metto il mio spirito buonanotte certo che se dentro c'hai altro è un po' difficile puoi fare questa roba no? quindi chiediamo al Signore la grazia della luce e la grazia del coraggio di essere cristiani cattolici fino in fondo grazie a tutti grazie a tutti